Ciao a tutti ragazzi, bentornati su un nuovissimo video di FIFA 17 Oggi come potete vedere in alto a sinistra abbiamo 1050 FIFA coins Ho scioppato 10 euro su FIFA Per aprire un bel, allora per fare, cioè in teoria Per aprire un pacchetto da 55.000, pacchetto giocatori Bundesliga Prime E per farmi un draft Ora ce ne andiamo a fare il draft e poi ce ne andiamo a aprire il pacchetto Andiamo a fare questi 300 più da points Vediamo i moduli Vedo certi moduli buoni Uso 4, 3, 2, 1 Che è un buonissimo moduli Vediamo un po' i capitani I capitani Che è uscito Non mi sembra durissimo Ecco mi fa il visa Skipiamo Messi Messi Todi Dai ragazzi Dateci Il giocatore Mamma mia Questa qua sta vivendo Cross Ora ogni e sto modricidoti Dai Ehm 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 Bruno Ehm Ehm Bruno Pure se c'è un galleone Ma così ci fa più questo Buono Marciano ancora di più Quando mi prendo abbiarti alba perché Marciano potrebbe uscire pure Toti Sì, va Ora adesso devo fare una cosa e non mi piace la cosa Bello, durissimo che toti Mamma mia ragazzi, già 3 togli questa squadra Ok, fa il caro stifo che chiamo il diarra Sfittiamo? Non mi ho visto da me alba non mi ho visto da me alba se non mi sono venuto Vediamo i portieri perché forza e quindi la rulli quindi è un partito bagliato della Lila dai 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 alle affare 2,48 che è una delle stracce e la seduzione qui voglio senti molto fermiamoci se ne ho potuto sferire di una squadra Devo attaccare le due e sembra che dai mascherano buonissima dai mascherano questi diarra mi fanno fatica e mi prenderà la lista di serve ora Nani e mi faccio baggare a prendere Sì credo che la metterà al posto di pure se ora mi serve un video e vabbè un paio di video ok sì diciamo schifosi se no di 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 ronaldoooooo che spiene ronald ragazzi quello che non mi fa affondire però è meglio cosa vuoi vincuare ho l'aracchiamo oh! 2! la giudizia, l'aracchiamo guarda guarda, che mi non lo voglio andare in basso non lo voglio andare in basso ok ragazzi abbiamo fatto una cannaia di azione a cannaia di... oddio intesa però ora farei così farei mettere la durizia a posto di rimarvi oh ne ho un'ora e novanta e questo è tutto ragazzi questo è un'ora di ritmo dell'ottile speriamo di farlo il gusto di 1009 allora andando a posto poi ce lo faccio allora andando in giro ok poi ce lo faccio vediamo cosa successe un... voglio vedere della liga no è riuscito lì no andando serio ho fatto un trucchissimo a me a me come una cannella come ragazzi è un... quanto è? 100... 86... buono in modo trattato di... quindi... ora arriva il momento cruciale di questo video cioè andiamo ad aprire il pacchetto dell'amore non è un buon caos oh mio dio c'è 80 un pacchetto da 55 mila crediti 80 c'è caro madre che sfida non è un amico la famiglia è una cosa e ovviamente è una cosa non è di quanto va niente pacevo roder non c'è tanta cosa vale va bene ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace condividete iscrivetevi al canale se è ancora più facile ci vediamo in un prossimo video ciao